Allora, 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 sì, bene in fila, ok, Sasha, you know very well the rules of the show, you can choose only one singer, ne puoi scegliere per andare in finale, solamente uno, il forcio sì, secondo me, oh, c'è un tempo per un spettacolo, per elegir solamente un cantante per continuare in spettacolo, a periodo, tocca a me. Ah, well, it is a competition, so I think it's important that I pick somebody that the audience will always want to. È una competizione, quindi nelle scelie è assolutamente una persona che ha gradito molto anche da parte del pubblico, and... So, I think I'm going to go with my Southern Hemisphere friend Karen! Very good! Thank you very much! Thank you, you can go to the backstage, and we continue the show! Sasha, please, go! You know that we have to go fast. Allora, allora, che abbiamo all reach of the stage and of the...